Elena Cecchettino, ospite del programma Quarto Grado, ha dichiarato di aver notato che l'ex fidanzato di sua sorella Filippo Turette è costantemente online su WhatsApp da quando le ha scritto domenica scorsa per cercare informazioni sulla sua scomparsa insieme a Giulia. Filippo è attualmente indagato per tentato omicidio e ricercato in Europa. Durante l'intervista Elena ha rivelato di aver tentato più volte di contattare il ragazzo e ha notato che i messaggi risultano consegnati con la doppia spunta grigia, indicando che sono stati ricevuti su un dispositivo attivo. Questo suggerisce che Filippo potrebbe averli letti, avendo disattivato la conferma di lettura con la doppia spunta blu. La situazione solleva interrogativi sulla sua reale disponibilità a rispondere alle richieste di informazioni sulla scomparsa di Giulia.